23.000 euro l'anno in meno per ogni consigliere regionale del Molise, che moltiplicati per 30 più il presidente corrispondono a 713.000 euro circa. Il Consiglio dei Ministri lo ha disposto lo scorso 4 ottobre, il Capo dello Stato lo ha reso esecutivo ieri. Il tutto è stato approvato dal Governo, con un decreto legge che detta nuove regole finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà, nonché, dicono da Palazzo Chigi, a favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile, efficiente, trasparente e rispettosa della legalità. Una sforbiciata da 180 milioni di euro in tutta Italia, ogni regione dovrà rispondere a certi parametri in fatto di indennità e quant'altro in materia di spese della politica, basandosi sui conti delle regioni virtuose. Nello specifico si prevedono decurtazioni di ogni tipo, a partire appunto dalle indennità fino ai finanziamenti ai partiti e ai gruppi consigliari. Si pensi che in Molise solo i gruppi monocellulari, ossia composti da un solo componente, sono nove, quasi tutti all'opposizione e fanno capo a Frattura, Chierchia, Didonato, Ciocca, Romano e Monaco. Nel centro-destra sono tre, Iorio, Scasserra e Niro. Ognuno dei singoli consiglieri riceve oltre all'indenità consigliare di 5.200 euro netti, ulteriori 5.800 euro per conto del gruppo. Solo eliminando i gruppi unicellulari si risparmierebbero ben 100.000 euro l'anno in Molise. Se tutto ciò non bastasse, il governo ha anche predisposto un definitivo taglio ai vitalizi dei politici regionali. Il Molise, per la verità, li ha già definitivamente rimossi per il futuro. Prima regione in Italia. Ma resta purtroppo nella morsa di quel gruppo di ex consiglieri regionali che quel vitalizio non lo vuole mollare. capeggiati da Fernando di Laura Frattura, padre di Paolo, sono riusciti a mantenere i loro privilegi con la velata minaccia di ricorsi su ricorsi. Ora noi ci chiediamo se non sia davvero il caso di rendersi conto che la nostra nazione, con il Molise in prima fila, è costretta a tagliare su ogni settore per far quadrare i bilanci. E chi in parte è anche la causa di questo deficit, come gli ex politici che hanno gestito la cosa pubblica, potrebbe almeno pensare di rinunciare a parte dei propri vitalizi per aiutare l'economia a riprendersi.